Intanto oggi è l'ultimo evento della lunghissima serie di incontri che abbiamo organizzato per i 90 anni del Museo. Il titolo della mostra centrale sui 90 anni del Museo era una storia al futuro e quindi gli incontri di oggi, la presentazione finale della giornata di studio rappresenta bene questo dualismo fra essere un centro che gestisce, che conserva il patrimonio storico dell'automobile italiana, ma allo stesso tempo guardiamo al futuro, guardiamo avanti alle nuove tecnologie e a tutto quello che può essere considerato il percorso che l'automobile e la sua cultura potrebbero fare in futuro in un momento di forte incertezza. Quindi questo è il succo della giornata che ha portato a alcune cose oltre alla ridiscussione finale della giornata di studio estremamente interessante sui temi del restauro, sui temi dell'archivistica, sui temi della documentazione, della memoria e sui temi della cooperazione fra i musei, l'idea stessa del museo di automobili, l'idea stessa di automobili e dove va, questi tre temi. Poi la presentazione della borsa di studio specifico, passaggio per la memoria di Maria Lamengozzi, concreto, quindi non solo la giornata di studio, la presentazione del volume, le mille miglia delle idee, oggi realizzeremo sulla base di quello che si è detto oggi, un altro volume, il secondo, quindi stiamo proseguendo questo percorso di costruzione di una cultura dell'automobile diversa. E poi questa lezione, questa presentazione del professor Pinotti che sta fra l'estetica, le neuroscienze e l'applicazione delle nuove tecnologie per il futuro, le tecnologie della percezione, quindi il pre-metaverso, di cui abbiamo anche dato una piccolissima anticipazione perché in tutti gli eventi che abbiamo fatto, negli altri musei, nei luoghi concreti di Torino e non solo, siamo anche andati nel metaverso di una città che nascerà per l'automobile totalmente virtuale. È un libro pubblicato da Schirà, si intitola La mille miglia delle idee, è un'edizione bilingue e sono un po' gli atti di un convegno di fatto, ma di una bellissima occasione di mescolare discipline diverse, come spesso mi capita di fare, in questo caso ospite del Museo dell'Automobile. L'Automobile è come discorso della cultura e quindi come campo allargato, non specialistico, che coinvolge interessi legati alle arti, alla filosofia, all'antropologia, a tutto ciò che è la cultura. Abbiamo invitato personalità importanti di diverse discipline a luglio a parlare e questo è il risultato, diciamo abbiamo con alcuni contributi speciali in più, di una serie di quaderni del Museo dell'Automobile che ha questa partnership anche con un editore importante di prestigio legato all'arte come Schirà e che sarà appunto una serie di quaderni che raccontano l'automobile in modo laterale e credo che sia un'occasione importante per capire che l'automobile non è solo un oggetto di studio, un oggetto di passione o uno strumento, ma è anche un ambiente culturale che ci condiziona e che noi possiamo anche cambiare attraverso la nostra fantasia e i linguaggi. Grazie.